Musica Ese bloque Perché sì C'è esse bloque Grazie a tutti. Gigi puto, 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 Gigi, Pugnoto, 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 Un collab di Viprin, che non è stato in la contazione di Viprin, è strano, poi si è molto strano, e qui Viprin è dicendo LIT, wow. Wondering why they didn't actually, ya ves, perché non usaron la canzone di Event Horizon di Struijor, niputa idea, però bene, Gigi, it was very cool, pensava che moria in los tres pinchos, io tambien vale, non ero il unico, coño ya, buona esa Antonio, buona esa, pues nada, Gigi.